Musica Buongiorno, ben svegliati, bentornati alla rassegna stampa di Super J. Anche questa mattina leggeremo insieme le notizie pubblicate dai quotidiani locali il centro e il messaggero. Cominciamo subito con il quotidiano Il Centro, vediamo la prima pagina. Estate in città, migliaia di presenze, Teramo il primo bilancio del comune, siamo già oltre ogni aspettativa. La regione ha dato il via libera e fatto chiarezza sulla quarta dose del vaccino contro il coronavirus, quarta dose in farmacia, vaccini sbloccati. Nelle cronache a Roseto, addio a Savini, storico docente del Moretti e uomo di sport, aveva 74 anni. A Teramo, zoo profilattico, mai pagato il premio Covid. Mamma accusa mia figlia segregata. Una denuncia partita dalla Slovacchia fa scattare il blitz internazionale a Teramo. E poi le vicende, tristi del Teramo Calcio, la delusione, anche il CONI nega la Serie C al Teramo. Rimane adesso il ricorso al TAR. Giulia Nova, allarme, raffica di furti tra i bagnanti, colpi a segno in spiagge e sul lungomare, rubate le borse. A Tortoreto, la delega affidata ad un consigliere, fa scattare la polemica. Ai prati di Tivo, per riaprire gli impianti, serve il superconsulente. In Abruzzo, gli effetti della crisi politica. Ecco le 14 riforme a forte rischio. Se domani cade il governo Draghi, dalle pensioni e il piano del PNRR, agli aiuti per bollette, carburanti e tasse. L'elenco completo. Le pesanti conseguenze ricadranno ovunque, riguarderanno famiglie, imprese e denti locali. Al di là del colore politico, saranno decisive le prossime 24 ore. La pensione anche dal nonno al nipote. A segno di reversibilità c'è un nuovo particolare requisito per chi può beneficiarne. Il fronte dei comuni. Sono stati ascoltati i sindaci sulla crisi di governo. L'appello dei sindaci anche dall'Abruzzo. Premier vai avanti. Tra le mille firme anche quelle di Dalberto e di Ferrara. Fase delicata. Servono stabilità e la sua autorevolezza, dicono i primi cittadini abruzzesi. Coronavirus. L'Abruzzo si difende. Quarta dose anche in farmacia. C'è l'atto che sblocca i vaccini. La regione ha dato il via libera e fatto chiarezza. Gli over 60 possono evitare code e disagi ai centri ASL. Gizzi dell'Assofarm dice. Le disposizioni sanitarie ci sono. Chi non si è attivato lo faccia immediatamente. Pandemia, covid e ricoveri non scendono. Il tasso di positività dei test sale e supera il 27% e il più alto da giovedì. Ci sono stati ieri altri due decessi. E intanto nasce il tampone che svela anche i rischi. Si chiama COI ed è in grado di stimare indirettamente la carica virale. Ma gli esperti su questo nuovo tampone sono divisi. Governo, vigilia della resa dei conti. Draghi, si gioca tutto. Si parte dal Senato. Il primo voto di fiducia è in programma domani. Poi toccherà alla Camera. Fallito il tentativo dei governisti e del PD. Renzi rimarrà a Palazzo Chigi. E adesso intanto vabbè c'è il caldo. È un'estate caldissima. L'estate finora purtroppo lo continuerà ad essere. Grande caldo. Le località più colpite. Arriva l'AFA in Italia. Temperatura a 40 gradi. Addirittura 9 città in rosso. Anche la prossima settimana potrebbe essere bollente. Per gli esperti la situazione è simile all'estate record del 2003. Intanto in Europa divampano purtroppo le fiamme. Andiamo alle notizie dalla provincia di Teramo. Zoo profilattico. La beffa ai dipendenti. Mai pagato il premio Covid. Si apre il confronto in regione. L'istituto non è stato autorizzato a riconoscere le risorse aggiuntive. I sindacati chiedono un tavolo. In cassa ci sono 600 mila euro da distribuire tra i 150 lavoratori impegnati nell'emergenza pandemica. Dal 16 al 18 settembre. Grandi ospiti in città per il One Health Award. Il ricercatore Bertuzzi aprirà la segna sulla salute globale. Lo chef Romito la chiuderà. Truffe online con i pezzi di ricambio per auto. Chiesto il processo per un teramano. Cinque eraggirati che hanno pagato senza ricevere nulla. Il caso mamma accusa mia figlia segregata. Si indaga per riduzione in schiavitù. Denuncia dalla Slovacchia. Fa scattare un blitz internazionale. Ma la ragazza nega il sequestro. E dice sto bene e mi sposo. Caso Gran Sasso. Deludente l'incontro sull'acqua. Il comitato azione popolare presieduto dal dottor Ezio Castelli che vedete nella foto dice troppo teorico. Lo studio presentato. A Teramo asfalto a pezzi in via Flaiani. Un ragazzo è caduto con il monopattino. L'estate in città c'è un primo bilancio. Il comune sugli eventi. Grandi numeri e risultati oltre le aspettative. Gli assessori Core e Filipponi. Migliaia di presenze ogni sera nei vari siti. In 3.000 in piazza per Bobbi Solo. Il castello è la nuova attrazione. Vediamo anche le immagini proprio di queste serate del concerto di Bobbi Solo nello specifico che ha riempito Piazza Martiri della Libertà. E poi l'annuncio in autunno riaprirà anche la Torre Bruciata che tornerà ad essere luogo di esposizioni. San Nicolò nuovo volto per via della pace. Partita la manutenzione dei marciapiedi fino alla scuola media. I dettagli dei lavori sono stati illustrati in una conferenza stampa dal sindaco Gianguido D'Alberto e dall'assessore alle manutenzioni Valdo di Buonaventura che abbiamo ascoltato. Sono partiti i lavori di riqualificazione di via della pace a San Nicolò a Tordino. Sono lavori che la cittadinanza aspettava da tanti anni. E dovrei finalmente, perché si è perso anche troppo tempo, siamo arrivati a dare inizio a questi lavori necessari per rendere fruibili tutti i marciapiedi che partono qui dall'ingresso, dall'ingrocio fino al cimitero. Anche perché la condizione dei marciapiedi oggi la vediamo qual è? Erano praticamente impraticabili, tant'è vero che capitava spesso di transitare su questo percorso e vedere le mamme con le carrozzine che erano costrette a transitare sul manto stradale. Durante la conferenza stampa avete ricordato che l'ultimo intervento in questa zona è stato effettuato dall'Aggiunta Sperandio? Eh sì, sì, è stato fatto da tanti anni fa. Ovviamente ci dispiace dover abbattere questi alberi ma andremo a sostituirli con un numero pari o anche maggiore. Ovviamente dove esiste una situazione pericola andremo a mettere anche staccionate e poi al bordo del marciapiede, dove possibile, andremo a rimpiantare nuovi arbusti, magari anche di pregio. Quindi andiamo a riqualificare questo tratto di strada. Quanti fondi ci sono per questo lavoro? Sono stati investiti circa 90.000 euro, quindi sono circa 80 punti di intervento, rimozione dell'arbusto che c'è che oramai è l'apparato radicale, di fatto è diverto tutto il selciato di betonella e quindi diventava veramente impraticabile. I tempi di realizzazione? Ma io penso che nel giro di 20 giorni e un mese sarà tutto sistemato. Ovviamente per il momento su questo tratto non è previsto il mando stradale rifacimento perché abbiamo su San Nicolò, abbiamo previsto interventi, tutta l'area di camminamento lì a via Galilei e poi via Costantini dove c'è una situazione pericolosa e quindi dobbiamo intervenire. Però qui poi in futuro sicuramente bisogna anche rimettere mano al mando stradale per rendere proprio questa via decorosa e sicura. Proseguiamo la rassegna stampa con la lettura delle notizie pubblicate questa mattina dal Quotidiano Il Centro, Campo di Nepezzano e Palermo. I finanziamenti del PNRR per anteditivo per riaprire serve un super consulente. Va scelta una figura tecnica neutrale che certifichi le manutenzioni da effettuare e i soldi necessari. Solo poi si potrà aggiungere ad un accordo tra Finori e la GST e tra l'altro c'è stata la proposta di tentare di riaprire gli impianti di risalita almeno per il periodo estivo che resta. La consigliera di parità concorso contro la violenza martedì premiati i finalisti. A Roseto oggi flash mob per ricordare Borsellino e gli agenti uccisi. L'iniziativa è di Fratelli d'Italia. Il CAI di Isola del Gran Sasso ricorda un anniversario importante, cent'anni dalla prima ascesa al Paretone. Tortoreto le scelte post voto. L'urbanistica va ad un consigliere da meglio violato il regolamento. La consigliera di opposizione all'attacco del sindaco Piccioni per l'incarico affidato a Figliola. Una delega pesante rischia di restare paralizzata perché è in mano a chi non sta nella giunta, dice la consigliera. Martinsicuro è colonnella, tre arresti per vecchie pene, spaccio di droga e anche bancarotta. A Martinsicuro è allarme per i furti di biciclette. In tanti denunciano sui social colpi anche in contomini e all'interno dei garage. La regata di Martinsicuro torna alla sfida tra barche a tre remi. L'equipaggio Campo Casone 1 si aggiudica il Memorial Dionisi. A Giulianova un fine settimana nero, serie di furti in spiagge e sul lungomare. Borse rubate sotto gli ombrelloni e nelle auto parcheggiate. I carabinieri avrebbero elementi per identificare gli autori. Sempre Giulianova, nuovi equilibri entro Ferragosto, Francioni in maggioranza, Costantini cerca soluzioni. I migliori degli esami di Stato e siamo sempre a Giulianova, sono 21 i 100 al Liceo Curi, 7 al Crocetti Cerulli. Il lutto a Roseto muore a 74 anni. L'ex insegnante Savini è stato docente di economia aziendale all'Istituto Moretti e cofondatore della squadra di calcio Felicioni. Oggi i funerali. L'estate in città, bus navetta, proroga al 31 agosto con i nuovi orari per le frazioni. Il servizio è gratuito. L'annuncio dell'assessore Mastrilli per i cambiamenti abbiamo chiesto ai consiglieri di quartiere. La modifica ha decisa dall'amministrazione dopo le proteste dei cittadini per l'assenza di risorse di corse serali. Gli appuntamenti di Montepagano, integrato il calendario degli eventi, la cinquantesima edizione della mostra dei vini, si terrà dal 5 al 7 agosto. A Roseto ripitturate le strisce pedonali, non le linee di mezzeria, la segnaletica sulla statale 16. Piromane nei Calanchi. C'è l'appello a denunciare. Atri, indagini dei carabinieri forestali per il rogo doloso nella riserva regionale. Il comandante Mancini è una zona popolata che ha notato qualcosa. Segnali a Silvi Fondi dal Ministero per la Biblioteca Comunale. A Pineto aumentano i ricavi della farmacia comunale. E adesso andiamo a leggere le principali notizie che arrivano dalle altre province abruzzesi. Iniziamo con quella di Pescara dove c'è una nuova emergenza in ospedale. A causa del Covid il pronto soccorso è pieno e i letti finiscono nel corridoio. Tragedia a Bussi. Pensionato scivola nel Tirino e muore. Aveva 84 anni. Stava tagliando un albero secco nel giardino di casa sull'argine. Il corpo trovato a 600 metri. Monte Silvano, il calendario delle manifestazioni. Centro congressi, mostre e feste. Tocco, così rilanciamo il turismo. All'Aquila l'attesa per la visita del pontefice alla perdonanza il 28 agosto. Visita del Papa cresce l'attesa. 5.000 posti a Collemaggio. Per quanto riguarda Chieti, Lanciano, la provincia di Chieti, Lanciano in particolare. La tragedia dell'iconicella, donna trovata morta nel garage, niente autopsia, slitta la verità. La positività al Covid della sessantenne rallenta di alcuni giorni. L'esame è tanto atteso anche dai cinque figli. L'avvocato del marito indagato per omicidio. Il mio assistito, ciò che aveva da dire, lo ha detto subito. Per quanto riguarda l'Aquilone, l'inserto del centro estivo dedicato agli spettacoli e agli eventi. C'è Elisa in Abruzzo, il mio tour in quest'Abruzzo delle meraviglie. La cantante friulana fa tappa domani sera a Basto con il concerto dedicato a sostenibilità e ambiente. Ovviamente sono tanti gli appuntamenti in tutta la regione per questa calda estate. Per quanto riguarda lo sport, la brutta notizia, tra l'altro attesa in questi termini, sul Teramo. Niente serie C. Teramo bocciato dal Coni. Dopo la FIGC, anche il collegio di garanzia respinge il ricorso dei biancorossi. La società pronti a far intervenire il Tar. Si valuta la strada della D. Il sindaco d'Alberto bisognerà garantire la continuità del calcio teramano. sempre per la serie C. In questo caso il Pescara che sta già lavorando al mercato oramai da tempo. Assalto a Ghion. Piace il portiere Vigorito. Si tratta con il Sassuolo per il centrocampista. Attualmente in prestito al Perugia. Complicato il ritorno di Fiorillo. In arrivo il difensore Pellacani dalla Virtus Verona. Il basket c'è una bella notizia che riguarda un atleta abruzzese. Il primo abruzzese negli Stati Uniti. Da Pescara alla NBA. Fontecchio, sa vera il sogno americano, figlio d'arte, ha raggiunto l'accordo con gli Utah Jets. Mamma ma lì, ripagati anni di sacrifici. Sono ovviamente felice per il 26enne cestista pescarese. Un contratto biennale da oltre 6 milioni di dollari. Perno della Nazionale nell'ultima stagione ha giocato in Spagna. La madre è stata una stella del basket come il nonno Vittorio sul finire degli anni 50. Il papà Daniele, anche lui uno sportivo, però è stato un ex ostacolista. Sempre per il basket. Supercoppa l'11 settembre. Ecco le gare delle quattro abruzzesi. Per il calcio di Lettanti, Lanciano nel caos, si dimettono il DS Nucifora e il tecnico Montani. E' tutto per quanto riguarda il quotidiano Il Centro. Prima di andare a leggere le notizie pubblicate questa mattina dal messaggero, andiamo a Montorio Alvomano con un'intervista ad un consigliere dell'opposizione che ha raccolto le proteste di alcuni cittadini ed alcuni commercianti. in Viale Duca degli Abruzzi, dove il comune ha avviato i lavori per la realizzazione di una mini pista ciclabile, eliminando, dice il consigliere comunale di opposizione, 45 posti auto. E questa decisione evidentemente non è piaciuta ad alcuni abitanti e commercianti della zona. Sentiamo l'intervista. L'amministrazione comunale di Montorio Alvomano sta realizzando una pista ciclabile in Viale Duca degli Abruzzi e c'è già chi protesta perché dovrebbero scomparire con questa pista diversi posti per le auto. Sì, noi avevamo già preannunciato le difficoltà che ci sarebbero state con la realizzazione di questa mini pista ciclabile perché poi parliamo di qualche centinaia di metri, forse un chilometro, un anello. Già in fase progettuale di comunicazione da parte del sindaco dell'intenzione di realizzare questa pista avevamo sollevato alcune criticità come la sicurezza e come quella della mancanza dei posteggi auto. A protestare sono soprattutto quelle persone che hanno delle attività commerciali da quelle parti? Allora, in questi giorni sono iniziati i lavori, salteranno, come abbiamo già detto, circa 45 parcheggi, un numero notevole. In questi giorni riceviamo noi dell'opposizione, io l'ultima questa mattina, diverse e molte chiamate da parte di cittadini, residenti, commercianti e medici. Questa mattina sono stato contattato dall'ultimo medico perché sono preoccupati delle criticità che ci saranno in virtù della mancanza dei parcheggi. Il sindaco doveva realizzare questa pista ciclabile ma si doveva preoccupare prima, ma innanzitutto dico che è comunque un'opera inutile, molto costosa, inutile, rapporti costi benefici quasi sproporzionati. Però prima di fare una riqualificazione del genere si doveva preoccupare di sistemare quella che era il numero dei posteggi, quindi garantire un numero dei posteggi sufficiente per tutti. E adesso andiamo a leggere insieme le notizie pubblicate questa mattina dal quotidiano Il Messaggero. In primo piano l'emergenza coronavirus, gli ospedali non reggono, l'aumento dei ricoveri al ritmo di 50 a settimana trova impreparate le strutture. Mariangeli, le difficoltà logistiche rallentano la creazione di aree interne per i positivi. Il barista di Passo Lanciano morto in sella allo scooter per Sergio Simone, notissimo fra sciatore e turisti, fatale lo scontro con un furgone nei pressi di Pretoro. Covid, l'ondata estiva, ricoveri su al ritmo di 50 alla settimana. Gli ospedali in affanno, di fronte al rallentamento dei contagi, l'emergenza è legata all'organizzazione. Nelle singole strutture, dice Mariangeli, vanno create aree grigie per i positivi. Pescara, se attrezzato, specchi e murali non risolvono l'impatto sul centro storico. Per quanto riguarda l'Aquila, emergenza pneumologia per la carenza di personale. Come vedete, questa nuova ondata di coronavirus sta creando problemi in generale negli ospedali della nostra regione. Due medici sono in malattia per Covid e uno in ferrie. Restano solo due unità e proprio anche a causa dei contagi per Covid sono tanti i medici e anche gli infermieri che in questo momento sono a casa creando carenza di personale nei vari reparti. a Chieti con la moto contro un furgone. Muore il 76enne Sergio Simone, era titolare del bar dello sciatore e viveva a Passo Lanciano. L'incidente purtroppo ieri a Cerrano. La figlia è stata anche sindaco di Pretoro. Teramo, Covid, picco, contagi e 60 ricoverati. Il vaccino protegge, pinto. Abbiamo in ospedale quattro pazienti con polmonite in aumento, le quarte dosi per i fragili e ultra sessantenni. Ma l'immunizzazione è frenata dall'attesa per l'aggiornamento del booster sulle nuove varianti. Per il momento c'è ancora la Omicron 5. E poi c'è una notizia che riguarda la fontana dell'Olmo. Torna a zampillare la fontana dell'Olmo in Piazza Martiri e di notte sarà illuminata due anni fa. Vi ricordereteci fu la chiusura per uno sversamento proprio all'interno della fontana di olio durante un mercatino. Il caso funivia dopo la tragedia del Mottarone e controlli all'impianto di Prati di Tivo. L'obiettivo è riaprire ad agosto e settembre per non compromettere completamente tutta la stagione estiva. Il cantiere nel degrado, la passeggiata di via della Pace, sarà riqualificata. Siamo a San Nicolò, le radici hanno sollevato tutti i marciapiedi di Buonaventura. Gli alberi rimossi saranno risistemati, ripiantumanti. Ieri nella nostra intervista che vi abbiamo appena riproposto, l'assessore ha anche detto che ne verranno messi anche di più. E ci spostiamo sulla costa con l'allarme furti, raffica di furti sotto gli ombrelloni, dieci colpi messi a segno domenica, denunciati ai carabinieri, rubati zaini e borse con contatti, documenti e carte di credito. Le azioni anche, in azione anche i topi d'auto che svaliggiano le vetture in sosta. Ma dalla costa arrivano anche buone notizie, in particolare dalla zona di Roseto e Colonia Spiaggia dove sono terminati alcuni importanti lavori di ripascimento. Andiamo ad ascoltare insieme il nostro servizio. Si sono conclusi a Roseto degli Abruzzi i lavori di ripascimento morbido. Parliamo della zona di Colonia Spiaggia, parliamo soprattutto della zona di Roseto Sud. Erano appunto questi due i tratti più difficili da gestire. Vice sindaco Omarcone, lavori che si sono conclusi fortunatamente in piena estate per dare soprattutto una mano importante anche agli operatori balneari. Assolutamente, siamo vicini alle categorie che hanno subito in questi anni l'erosione costiera e ovviamente per la prima volta abbiamo supportato in maniera differente rispetto al passato la categoria con un ripascimento innanzitutto con camion, quindi non con la draga che portava appunto con il tubo la sabbia in spiaggia e inoltre è stato fatto di notte ed è stato fatto praticamente inizio luglio, quindi a differenza degli altri anni che avveniva ad agosto, quasi a stagione conclusa. Premesso che tra l'altro siamo non proprio favorevoli al sistema del ripascimento morbido perché conosciamo che è un sistema che purtroppo dura un lasso di tempo limitato ed è per questo che l'amministrazione si sta impegnando a far sì di realizzare nuove scogliere come abbiamo fatto a Colonia Spiaggia grazie al contributo di Regione Abruzzo e all'impegno del sottosegretario Umberto D'Annuntis e faremo lo stesso sempre con il supporto della Regione sia per Roseto Nord con un investimento di 800.000 euro circa e Roseto Sud con un investimento di 900.000 euro circa, quindi solo con il rinforzo delle scogliere sarà possibile ridurre quantomeno il problema dell'erosione costiera nella nostra città. A Roseto ancora città in lutto ma allora in casa muore a 74 anni il professor Francesco Savini Cordoglio sempre Roseto per Roseto per la prima ultima serata per questa importante manifestazione grande successo dice il sindaco Nugnes tutto esaurito alla villa comunale c'è stata anche una targa in ricordo di Esther Pasqualoni la dottoressa uccisa da uno stalker qualche tempo fa in 200 a divertirsi chiuso il campo da beach volley a causa del chiasso in spiaggia Abruzzo Sport, Pescara si punta tutto su Maiorino il direttore sportivo dell'Icarri vuole il trequartista della Virtus Francavilla basket Fontecchio sbarca in NBA con gli Utah Jets il 26enne pescarese diventa così il terzo italiano a giocare in NBA Teramo sfuma la C la società Valtar in serata la notizia di spostare la battaglia al tribunale della giustizia amministrativa il sindaco d'Alberto intanto sembra pronto a percorrere altre strade per la serie D per il collegio di garanzia del Coni i biancorossi non potranno giocare il prossimo campionato in Lega Pro e ancora il calcio di serie D Pineto via al raduno il primo test ci sarà il prossimo 27 di luglio e infine sempre per il calcio e sempre per la D il notaresco mister De Patre è pronto a sedersi in panchina manca solo la fumata bianca ma oramai sembra ufficiale l'arrivo di mister De Patre sulla panchina del notaresco calcio che giocherà anche quest'anno in serie D e concludiamo qui la rassegna stampa di questa mattina vi ricordo come sempre l'appuntamento alle 9 in diretta con la nostra trasmissione a colazione grazie per l'attenzione e buona giornata grazie per la visione